Una volta dentro vengo stordita da una caldissima puzza di piedi sudati. Ero già stata in una palestra prima d'ora, voglio dire, ma puzza di piedi neanche l'ombra. Ehi tu sei qui per l'allenamento! Ciao! Io sono Adele e parte il giro di nomi, intilissimo, Roberta, Paola, Chiara, boh, boh, boh. Giro, giro, giro e... Le ladies sono a bocca aperta! Adele, siamo sulla strada giusta, ma siamo ancora lontani. Buongiorno, cazzo, c'è Pierotti! Vorrei essere così forte da poter andare dritta e mostrare le tettine a Pierotti. Ehi esce e ci credi, e se ci credi tu, ci credono tutti. Ho voglia che l'aria mi entri più dentro. Voglia di non dire di no a niente. E sono stanca di pensare, di poter aspirare solo alla medietà. Medietà, mediocrità forse volevi dire. No vale, io volevo proprio dire medietà. Però ho la pelle liscia, che se uno mi tocca mi dice mai la pelle liscia. Sì, ho la pelle liscia. Perché io sono Giulia Roberts. Io sono Grace Kelly, sono Forrest Gump, sono il mango Zurli. Varen? Ce l'ho. Io ce l'ho. Io ce l'ho. Io ce l'ho.